Comincia una nuova puntata di Cronaca e Trevigiane, la mobilità elettrica e le sue prospettive per il futuro. Questo è il tema che affronteremo con ovviamente l'ausilio di tanti ospiti autorevoli quest'oggi, ma nei particolari partiamo da un progetto, progetto Summit, targato Ascotrade, gruppo Ascopiave, che sta facendo discutere in positivo un progetto che verrà spalmato nel territorio trevigianeo, un progetto, possiamo definirlo anche pilota. E abbiamo qui con noi il Presidente Stefano Busolin, Presidente di Ascotrade. Come lo descriviamo questo progetto Summit? Beh, lo possiamo descrivere come un progetto che coinvolge prima di tutto il territorio, nato per coinvolgere il territorio, nato per diffondere anche una nuova cultura, rivolta verso la Green Economy, uno sviluppo della Green Economy, nato anche per verificare le opportunità di business che un'azienda come la nostra, che si occupa di vendita di gas e di energia elettrica, può trovare su questo mercato. Oggi siamo in un momento di difficoltà, siamo in un momento di crisi, e dunque questo progetto nasce anche per coinvolgere con Fartigianato e CNA e per dare nuove opportunità di lavoro e quindi per garantire anche in qualche modo alle imprese la possibilità di avere ordinativi, di avere uno sviluppo, uno studio sullo sviluppo tecnologico. Ecco, quindi Presidente spieghiamo. Questo progetto ci porta nel mondo della mobilità elettrica, attraverso la creazione di otto centraline di ricarica. Si chiamano Mobility Center, cioè la centralina per ricaricare i veicoli e poi tutta una serie di informazioni a chi arriva nel territorio. Certo, l'abbiamo pensato anche sotto il profilo turistico. Quindi da una parte la colonina elettrica per ricaricare in futuro le auto elettriche, in un futuro non molto lontano peraltro. Da un'altra parte la possibilità di utilizzare le biciclette, quindi la bike sharing cosiddetta, e poi la possibilità di ottenere informazioni di carattere turistico. Non dimentichiamo che la nostra area è una zona fortemente interessata al turismo, lo dimostra anche le otto municipalità che abbiamo coinvolto in questo senso. E regalerete a questi otto comuni un'auto elettrica, è così? Noi regaleremo, grazie all'accordo che abbiamo sottoscritto con Volvo Italia, daremo incomodato d'uso, un'auto ibrida, non propriamente elettrica, ma con la possibilità di utilizzo sia del motore a scoppio che del motore elettrico, per sviluppare un progetto di carpooling. Proprio in conclusione, quindi anche il posizionamento di Ascotrade, gruppo Ascopiave in un nuovo business, perché voi siete un'impresa. Sì, per noi è un nuovo business dal punto di vista della possibilità, vediamo un'opportunità di vendita di energia elettrica. In un momento di crisi cala la vendita del gas a livello nazionale, questo è un dato nazionale. Le previsioni danno un aumento sotto il profilo della green economy, del prelievo dell'energia elettrica, e dunque pensiamo che ci siano buone opportunità di business. Lo facciamo anche alla luce del fatto che già altri competitor nazionali si stanno muovendo in questa direzione. Presidente, però questo progetto sviluppa ricchezza per tutti i soggetti coinvolti, sviluppa benessere ambientale, ma anche per la nostra salute. Insomma, speriamo proprio che sia approvato. Noi la ringraziamo. Grazie a voi. Grazie davvero a Stefano Busolin. E allora dipaniamo questo tema tra poco con un ospite che ci fa una fotografia importante. Grazie. Grazie. Grazie.